Salome a tutti e benvenuti allo studio biblico messianico di questa settimana. Questa settimana studiamo la Parashah Shoftim e vogliamo approfondire ciò che nel sermone di Shabbat viene predicato dal rabbino Arel attraverso questo studio biblico messianico che va più in profondità in quelli che possono essere i significati biblici messianici della Parashah. Sono la Rebezzin Gabriella Frai della Bechalom, la congregazione messianica in Pozzuoli, in provincia di Napoli, Italia. In questo tempo siamo in viaggio negli Stati Uniti proprio per portare la parola di Hashem attraverso Yeshua Mashiach, la redenzione del Messia negli Stati Uniti. Coloro che si collegano appunto da diverse parti della diaspora, anche da Israele, possono accedere ai nostri studi biblici ma anche celebrare con noi lo Shabbat, anche fisicamente nelle zone in cui stiamo viaggiando e per coloro che lo desiderano ci possono contattare via mail all'indirizzo della congregazione Bechalom che è www.bechalomkeila.gmail.com. Vediamo quindi quali sono le cose grandiose che possiamo compiere nella nostra vita e attraverso le quali se le compiamo con successo possono effettivamente determinare un cambiamento totale nella nostra vita e dare un significato alla nostra vita. Quindi riempire quel vuoto che è in noi quando non abbiamo ricevuto Yeshua Mashiach, il Messia di Israele. Quindi quando finalmente attraverso queste cose grandiose riceviamo il Mashiach di Israele. di sicuro sono cose che rispondono a questa domanda che è perché sono stato messo qui nel mondo ed è una domanda che io mi posi tanti anni fa quando non ero ancora in Yeshua, quando non conoscevo ancora Yeshua come mio Salvatore. Chiedevo proprio ad Hashem che potessi comprendere il proposito nella mia vita e come ebrea messianica mi rendo conto che è un percorso di rivelazione che Hashem fa in ognuno di noi attraverso diverse strade. Ognuno di noi ha un unico modo unico di arrivare a questa rivelazione attraverso appunto l'apertura dei nostri occhi che è appunto l'apertura del nostro cuore al Mashiach. È una rivelazione che arriva attraverso la scrittura. Come ebrei non si ha quella che può essere chiamata la salvezza per i gentili. È molto diverso. Ciò che avviene è dato dalla rivelazione scritturale di quelle che sono le profezie messianiche e possono essere determinanti proprio per la comprensione di ciò che è il Mashiach nel popolo di Israele, in ognuno di noi ebrei che veniamo al Mashiach. E se non proprio così, appunto se questo proposito non è ancora stato determinato nella vostra vita, ebbene come posso rendere la mia vita degna di essere vissuta ora che sono qui. Sappiamo che solo attraverso Yeshua Mashiach, solo attraverso la redenzione del popolo di Israele e la rivelazione di chi è Yeshua nella nostra vita, possiamo essere in pace, ricevere quella shalom, quella pace che viene da lui e solo da lui, viene dal trono di Hashem e non c'è nulla che ci possa spaventare. Anche tutte le voci che possono arrivare da fuori di paura, di spavento, di terrore, di persecuzione. Tutto può accadere intorno a noi, ma c'è una pace che viene da Hashem che quando abbiamo una relazione personale con lui attraverso la rivelazione del Mashiach, che è Yeshua. Amen. Abbiamo quella pace e quell'amore che viene da lui e che non può essere scalfito da sentimenti umani, emozioni del momento, oppure magari ecco da sentimenti di paura, di terrore che possono colpire la nostra vita proprio in questi tempi di grande sconvolgimento, che ripetiamo sempre, sono solo all'inizio delle dolie di parto, del libro dell'Apocalisse, quindi siamo solo ai primordi di quello che deve ancora avvenire. Sappiamo che negli ultimi tempi saremo in una condizione di vita che sarà peggiore di quella dei giorni di Noè e quindi se solo pensiamo a questo riusciamo a comprendere a malapena quale sia la condizione dei giorni a venire, che non andrà a migliorare e chi crede che vada a migliorare non ha conoscenza né discernimento delle scritture bibliche, ma vuole solo far finta di nulla. Ebbene, far finta di nulla non ti aiuta e ti porta sicuramente ad essere sviato dall'antimessia, dall'anticristo, che vuole proprio questo, un allontanamento dalla scrittura, dalla Torah di verità, Yeshua HaMashiach, che Hashem ci ha donato, amen, sul monte Sinai e attraverso il compimento in suo figlio Yeshua abbiamo ricevuto nella redenzione e che tutto il popolo di Israele riceverà nella fine dei tempi. Quindi preghiamo innanzitutto che il popolo di Israele riceva Yeshua come proprio Messia per ricevere quella redenzione promessa nelle scritture. Nella Torah, quindi nella Torah scritta e nel Brit Hadashah, che è appunto il nuovo patto, il nuovo testamento. Ma torniamo a questa domanda, queste domande di chi sono io, da dove vengo, qual è il mio proposito, perché penso che la Parashah di questa settimana in realtà non solo dia spazio a questo discernimento, diciamo, che appunto fa comprendere il proposito del popolo di Israele nella storia dell'umanità, ma ci offre un quadro notevolmente coerente per pensare a queste domande sul significato della nostra vita, nel proposito di Hashem. E vogliamo quindi abbozzare quello che è per noi oggi il proposito nella nostra vita. La Parashah di questa settimana ci dice che prima di andare in guerra, in battaglia, i leader della comunità, del popolo di Israele dovrebbero rivolgersi alle truppe, proprio alla vigilia della battaglia e dire a quattro tipi di persone di tornare a casa, che è la cosa più difficile nella leadership. Noi sappiamo che, essendo nella leadership, abbiamo grande bisogno di aiuto e zero sostegno, per cui comprendiamo benissimo quale sia il bisogno di avere aiuto, ma sicuramente non vogliamo persone che ci portino in basso o che ci portino anche danno a quello che invece Hashem ha in piano, non solo per noi, ma attraverso di noi, per tante e tante persone. Perché ricordiamo che tutto ciò che avviene in noi è moltiplicato attraverso non solo la nostra famiglia, la nostra mishpaka, ma anche attraverso le mishpakaot della nostra congregazione, del nostro ministero, nella diaspora in Israele. Quindi è importante dire a questi quattro tipi di persone di tornare a casa e di non combattere, perché ci sono delle condizioni nella nostra vita in cui non siamo in grado di affrontare una battaglia spirituale, e quindi fisica, perché tutto ciò che avviene nello spirituale ha poi una dimostrazione in campo fisico, in quanto siamo deboli. Vediamo quali sono questi quattro tipi di persone che non possono combattere. Bene, noi li esamineremo oggi proprio insieme e nel frattempo giocheremo a uno dei nostri giochi preferiti, che è quello di trovare queste stesse parole nella Torah in diversi punti della Torah. Quindi quali di queste cose, quali di queste quattro tipologie di persone non sono come le altre? Quali di queste persone si distingue come diversa dalle altre? Ecco, li vediamo, il primo tipo di persona. Che è la persona che è costruita, che ha costruito una nuova casa. Quindi questo è il primo tipo di persona. Lascia che un uomo simile lasci il fronte della battaglia e torni a casa per vivere nella sua casa. Per non morire in guerra e un altro uomo possa venire a prendere in consiglia la sua casa invece di lui. Sappiamo che è fondamentale, quindi, ed è molto chiaro da parte di Hashem, quella che è la sua volontà quando qualcuno ha costruito una casa che ci possa vivere dentro, quindi fare esperienza di quella che è la sua relazione con questo nuovo progetto di vita. Per poi essere pronto a vivere la battaglia, altrimenti la sua testa è sempre, la sua mente, il suo pensiero è sempre in quel nuovo progetto che non ha mai vissuto, che non ha mai compiuto e potrebbe vivere di eterna, diciamo, insoddisfazione, anche mancanza di quel progetto non vissuto. Hashem non vuole per nessuno di noi che non ci siano progetti vissuti, ma per ogni tempo della nostra vita esistono dei progetti e con dei tempi precisi che possano essere compiuti nel pieno della sua volontà e che se non sono compiuti nel pieno della sua volontà allora noi rischiamo di anticiparne nei tempi ma anche nei modi e quindi di perdere quella pienezza che Hashem ci vuole far vivere nella bellezza, nell'amore, nella chesed nello shalom che dobbiamo avere perché noi non possiamo vivere la vita solo fuggendo da un punto all'altro cercando di aggrapparci a una cosa o all'altra e come vedo tanti cosiddetti credenti Yeshua cercano di carpire tutti i tipi di studi biblici tutti i tipi di, diciamo, di sermoni ma quello che Hashem ci chiede è che quando noi mettiamo mano all'aratro o mettiamo mano a una costruzione di qualcosa che ci siamo in pieno non quindi che siamo con la mente altrove e i piedi nella casa perché se è così rischiamo di essere distrutti spiritualmente e fisicamente quindi il primo uomo appunto viene descritto come una persona che ha appena costruito la casa che è l'uomo che si è piantato una vigna questa è la seconda tipologia colui che ha piantato una vigna certamente vuole vedere il frutto di ciò che ha piantato e se non si vede il frutto di ciò che ha piantato come spesso succede nel ministero profetico è perché ci sono dei tempi molto lunghi nei quali Hashem permette che ognuno di noi semini in quel campo che altri vedranno fruttificare ma è importante che quei frutti spirituali vengano a compimento anche attraverso altre persone e per noi come leader nel campo spirituale è importante vedere persone che siano il frutto di ciò che noi stiamo portando avanti è importante che quando noi lavoriamo vediamo dei frutti che non dipendono solo da noi ma dipendono innanzitutto dalle persone in cui noi andiamo a seminare come sappiamo se noi seminiamo in un campo in cui non c'è desiderio di crescita allora quel seme morirà, si svierà, tornerà al suo vecchio uomo forte e non avrà quella crescita e quella fruttificazione che desideriamo noi mettendoci il massimo di quello che possiamo ma noi siamo uomini e Hashem fa il suo compito da parte sua quindi in partenariato lavoriamo insieme ma se quella persona su cui stiamo lavorando non fa nulla da parte sua morirà comunque perché come una persona che va a scuola ma porta i libri avanti e indietro ma non li ha mai aperti non li ha mai studiati ne ha mai digerito ciò che è stato a lui o a lei insegnato e questo dipende da una quindi da una assunzione di responsabilità e quindi di crescita se vogliamo essere realmente leaders in Yeshua Amen e andiamo avanti e non ha ancora assaggiato le primizie di quel vigneto quindi è importante che provi le primizie di quel vigneto sappiamo che per noi è fondamentale comprendere che chi ci sta seguendo sta portando frutto e non è solo qualcuno che scarica i documenti PDF li copia per portarli ad altri ministeri noi siamo chiamati a benedire Amen noi abbiamo fatto questo in obbedienza a Hashem quindi a noi non interessa a chi li portate l'importante è che abbiano frutto e frutto in abbondanza quindi più vengono moltiplicate le cose più è importante per noi che siano portate in abbondanza ma anche che ci sia una semina poi da parte di chi ha ricevuto quello che abbiamo piantato che quindi ci sia anche un supporto finanziario di quelle che sono le decime delle donazioni altrimenti quello che ha ricevuto ciò che noi diamo muore comunque è un seme che morirà comunque perché avrà solo copiato milioni di PDF visto non so quanti altri miliardi di video ma non sarà mai cresciuto in Hashem Amen e se non portiamo frutto nella nostra vita qual è lo scopo è il percorso che Hashem è il proposito che Hashem ha per noi Amen riflettiamo su questa cosa fratelli e sorelle perché io vedo tanti fratelli e sorelle che non solo non rispondono proprio per nulla a qualsiasi tipo di stimolo diciamo scritturale sono come bambini diciamo viziati che stanno lì solo seduti e crescono 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 nella pancia ingrassano magari si ammalano anche hanno obesità infantile e quell'obesità infantile è frutto di una cattiva alimentazione anche può essere problemi dalla nascita ma di sicuro c'è una cura ad ogni cosa Hashem non ci vuole malati Hashem ci vuole sani e un corpo sano deve ricevere ma deve anche espellere ciò che non è buono e anche portare a compimento ciò che ha ricevuto attraverso la moltiplicazione quindi attraverso la propagazione della Torah e se questo non esiste fratelli e sorelle siamo solo bimbi eterni fino a quando non diciamo verrà la nostra ora e poi il giudizio da parte di Hashem per ognuno di noi sappiamo che sarà compiuto in ogni caso quello che a noi interessa è fare la sua volontà quindi essere obbedienti e fare ciò che lui ci dice di fare e sono più di tre anni e mezzo che noi registriamo come lui ci ha chiesto ogni cosa che noi compiamo lo facciamo in obbedienza lo facciamo gratuitamente proprio perché così ci è stato detto ma quando viene alla propagazione e alla crescita il leadership allora si devono iniziare a vedere anche dei frutti e questi frutti ancora in tante persone non li vediamo vediamo una dispersione di seme e sappiamo che è un peccato disperdere il seme è un peccato in Hashem non è un bene disperdere il seme che si riceve ma si deve portare a compimento quindi non è che si deve solo fare la condivisione di quello che è il video o la il soundcloud o quello che sia il pdf ma è anche propagare la parola iniziare a crescere iniziare a essere formati per bene iniziare a far parte ecco anche del progetto INBI che stiamo iniziando a ottobre iniziare a prendere delle responsabilità altrimenti si rischia solo di morire spiritualmente e qui voglio mettere un punto andiamo avanti lascia che torni indietro e torni a casa sua per timore che muoia in guerra e un altro uomo si impossessi della sua vigna e chi è l'uomo che si è fidanzato con una donna ma non l'ha ancora sposata lascialo andare a casa da lei per timore che muoia in guerra e un altro uomo la prenda e qui è importante fratelli e sorelle comprendere quindi che Hashem ha un tempo per ogni cosa e ogni cosa ha un tempo sotto il cielo infine il quarto tipo di uomo mi ha ish ha ya rei la persona che ha paura della battaglia berach ha leivav ed è di buon cuore e non lasciarlo sciogliere i cuori dei suoi fratelli poiché il suo stesso cuore è stato sciolto dalla paura e sappiamo nella scrittura biblica ci sono tantissimi esempi dello spirito di paura quando qualcuno ha questo spirito di paura che lo guida anziché lo spirito santo il roach kodesh che ci dà appunto la shalom la gioia al di là di quello che vediamo intorno a noi allora può portare danno a tutti coloro che sono intorno a lui o a lei e quindi è meglio che stia a casa sua e questo è scritto appunto nella Torah amén quindi se leggi questi quattro tipi di persone è abbastanza chiaro che l'ultimo è diverso da tutti gli altri perché? perché può portare danno non solo a se stesso ma danno anche agli altri vediamo che l'ultimo proprio il quarto tipo di uomo torna a casa per il bene della comunità ecco questo tizio è codardo e ha paura e non vogliamo che le altre truppe abbiano la stessa paura che lui ha perché la codardia è contagiosa quindi torna a casa perché così è meglio per la comunità tutta questo è ciò che dice esplicitamente il testo nella Torah ma quando guardiamo gli altri tre tipologie di persone c'è un imperativo dal punto di vista privato il motivo per cui essi dovrebbero tornare a casa non ha nulla a che vedere con gli interessi della comunità bensì ha a che fare con gli interessi di quei singoli soldati stessi il ragazzo ad esempio che si è costruito una casa come abbiamo visto non ci ha ancora vissuto dovrebbe tornare a casa ma perché perché sarebbe una tragedia per lui se morisse in guerra e non avesse ancora avuto la possibilità di vivere in quella casa stessa cosa per il ragazzo che si è fidanzato stessa cosa per chi ha piantato una vigna riguarda quindi l'oro e non la comunità e se si tratta di l'oro e non della comunità allora ho una domanda da farvi posso capire l'idea di una comunità che esonera un soldato dalla battaglia sulla base di un bisogno individuale e privato un buon esempio anche se fittizio viene dal film ad esempio di Steven Spielberg che è Salvate il soldato Ryan che se non avete visto vi consiglio di vedere in quel film infatti una madre perde tre dei suoi figli in battaglia lo stesso giorno una grande tragedia e quando il dipartimento della guerra lo scopre un generale di alto rango prende la decisione di inviare un plotone in Normandia con il preciso scopo di estrarre appunto questa purtroppo diciamo decisione finale da un punto di vista purtroppo perché rimanendo un unico figlio di questa donna in battaglia si decide di farlo esentare diciamo dalla battaglia perché anche l'ultimo figlio è un soldato e sarebbe quindi una tragedia senza precedenti se questa donna perdesse addirittura quattro figli i suoi unici quattro figli perderli tutti in battaglia quindi guardiamo cosa abbiamo qui questo generale che è disposto a rischiare la vita di altri famigli di altri militari per fare questa scelta per quell'imperativo privato quindi viene esulato diciamo viene esentato dalla battaglia questo ragazzo per una scelta da parte di un generale per un bisogno privato eppure qui c'è una sorta di logica in questo sarebbe davvero quindi una tragedia terribile incredibile per questa madre perdere quattro dei suoi figli passare i successivi quarant'anni se li vivrà in lutto in angoscia per ogni ultimo dei suoi figli che sono morti in battaglia la comunità quindi deve avere una certa comprensione del sacrificio individuale prima e deve onorarlo e talvolta gli interessi di un individuo vengono prima di tutto dobbiamo anche imparare a salvaguardare gli interessi del individuo ma pensa pensiamo alla situazione qui la situazione come la descrive la Torah abbiamo una persona che si è piantata una vigna ma non ha avuto la possibilità di assaggiare i propri frutti dice la Torah lasciala andare a casa e assaggiare quei frutti perché nelle parole della Torah si dice per non morire in battaglia e qualcun altro si impossessi della sua vigna e assaggi quei frutti ora qui è la nascita di questo tipo di domanda un po' da avvocato del nemico diciamo di Hashem del dubbio di quello che può essere uno spirito di dubbio e non mi piace farlo ma voglio essere schietta se muore allora sappiamo che per il mondo è morto una volta che siamo morti quindi chi si interessa se questo vigneto è intorno a quello che qualcun altro prende è morto non è nemmeno quindi più in giro per vederlo non c'è qualcuno con cui dover combattere la proprietà allora qual è il grande imperativo privato che sta motivando la comunità nel suo insieme a mandare a casa questi soldati lo metterò in altro in un altro contesto la morte è come la cosa peggiore che possa capitare sappiamo oltre la morte c'è la dannazione eterna coloro che non hanno ricevuto Yeshua ma come loro messia hanno dannazione eterna e questo è un dato di fatto ed è scritto nella Torah e quindi è davvero peggio se sono morto e non ho ancora avuto la possibilità di vivere a casa mia è come se la morte fosse infinitamente cattiva e quindi infinito alla quinta sai che è ancora un infinito la morte è sicuramente la morte quindi come mai a questi soldati viene detto di tornare a casa evidentemente la Torah non la vede così non la vede come la vede il mondo non è che la morte sia l'ultima infinita cattiva cosa che possa accadere come ben sappiamo il modo in cui la Torah la vede è che ci sono cose peggiori della morte voglio dire ammettiamolo moriremo tutti è così che stanno le cose è un dato di fatto non è la cosa peggiore del mondo sappiamo qual è la cosa peggiore del mondo è che se moriamo ed eravamo così vicini al raggiungimento di una sorta di obiettivo finale del proposito finale della nostra vita che avrebbe dato un proposito un significato alla nostra vita un significato che potrebbe aver trasceso quella morte e non lo abbiamo fatto alla fine perché siamo morti per primi in battaglia allora lì sì sarebbe una tragedia terribile non ricevere Yeshua HaMashiach prima di morire è una tragedia incredibilmente unica ed eterna ed è per questo che ognuna delle persone che sta ricevendo questo studio in questo tempo e che non ha ricevuto Yeshua HaMashiach che possa riceverlo per rivelazione scritturale attraverso la Torah che Hashem ci ha donato sul monte Sinai Amen in ognuno di noi c'è un proposito ben preciso da parte di Hashem ed è un proposito di redenzione nel Mashiach di Israele attraverso la redenzione possiamo avere quella relazione personale con Hashem che non abbiamo altrimenti non esiste altra via non esiste sacrificio di sangue non esiste preghiera o sortileggio non esiste altro Yeshua HaMashiach è l'unico intercessore al Padre Amen sappiamo se pensiamo di trovare quindi un significato un proposito nella nostra vita un modo per pensarci e usare la morte sicuramente come una sorta di cosiddetta diciamo cartina di tornasole che è una sorta di diciamo di mappa c'è qualcosa per cui saresti disposto a morire bene se la risposta è sì allora significa che la mia vita non è solo un fine in sé per sé il che è un po' se vogliamo un circolo come la vita ha un cerchio di vita di esistenza perché sto solo vivendo per vivere per essere qui all'interno di questa esperienza di vita quindi cosa significa comunque no la mia vita se ho detto sì rappresenta qualcosa di più e sono disposto disposta a morire per qualcosa per quella causa qualunque cosa sia bene Hashem nostro Abba nostro padre nostro amore nostro Chet Sed vede al di là di quello che noi umani possiamo vedere e ci ha creati per un proposito molto più grande del nostro essere qui così solo ad esistere ma c'è qualcosa di trascendente che è più grande di noi che al di là dei nostri pensieri dei nostri intendimenti per cui Hashem ci chiama ad essere a vivere per quel proposito che va al di là di noi stessi per qualcosa più grande di noi per cui siamo disposti a morire quindi ora anche se non muoio per questo vivo per questo come l'Apostolo Paolo diceva che egli viveva proprio per Cristo ed è in Cristo e noi per Cristo che viviamo e per Yeshua che viviamo Cristo è il nome in greco di Yeshua così Yeshua è il nome in ebraico di Yeshua Amen e quindi ho un proposito per cui vivere Yeshua Hamashiach Gesù il Messia di Israele il che significa che possiamo anche pensare in questo modo per cosa sto vivendo in modo tale che se dovessi morire potrei dire che la mia vita è ancora significativa perché ho vissuto per quello bene se la morte è una specie come abbiamo detto di cartina di tornasole per darci un proposito un significato allora chiediamoci quali sono quei tipi di cose che ci sembrano così significative da poter vivere per loro pensiamo alla Torah che la Torah ci abbia dato tre di loro qui tre propositi tre pietre miliari emblematiche costruire una casa piantare una vigna che è sposare una donna o un uomo come donna bene in quale modo se facciamo di queste cose queste tre cose e assaporiamo quindi i frutti di quel successo potremo sentire che sarebbe giusto morire e quindi la Torah manda a casa quel soldato che può essere ognuno di noi che è sul punto di raggiungere uno di questi risultati perché quando siamo così vicini ad aver raggiunto un tipo di significato un tipo di proposito che ci aiuta a trascendere la morte ad andare al di là di quella che può essere un'interruzione temporanea di quella che è la prova che Hashem ci dà che è molto di più di quello che noi viviamo qui perché è eterna la relazione con Hashem è eterna e sarebbe quindi una tragedia morire e non aver vissuto quel proposito effettivamente ma ora facciamo questa domanda poniamoci da dove prende la Torah queste tre cose li sto solo tirando fuori da un cappello o potrebbero provenire da qualche altra parte da dove viene quindi il loro significato voglio suggerire che la Torah stessa parla di cose fin dall'inizio all'inizio dell'umanità stessa infatti se ricordiamo nella creazione l'uomo è descritto come creato a immagine di Hashem a immagine di Dio e Hashem è il grande creatore amè crea un mondo un universo e quell'universo è una casa una casa per l'umanità e Hashem costruisce quindi una casa la prossima cosa che Hashem fa poi pianta un giardino un giardino meraviglioso dopodiché mette l'uomo in quel giardino poiché Hashem è lì nel giardino in questo modo Hashem può relazionarsi quindi con quest'uomo che ha creato e potrebbero essere quindi entrambi nello stesso giardino condividere insieme quel posto speciale e così era ed è ancora il piano di Hashem nelle nostre vite vediamo dove quindi stiamo arrivando qui Hashem ha fatto tre cose nello stesso ordine in cui la Torah le descrive proprio qui nella Parashah Shoftim qui nel Deutore Momio costruiamo una casa l'universo stesso per Hashem piantiamo un giardino e questo meraviglioso vigneto e collochiamo l'essere che ama che Hashem ama di più in quel giardino per relazionarsi con lui proprio lì in quel giardino e nel giardino che nasce la relazione tra Hashem e l'uomo quali sono quindi le analogie umane per queste cose l'uomo è descritto come creato a immagine e somiglianza di Hashem anche noi lo facciamo quindi queste tre cose proprio come le fa Hashem Hashem ha fatto queste cose perché erano significative per lui le facciamo perché sono significative per noi perché noi siamo fatti a immagine e somiglianza di Hashem ecco quindi cosa facciamo numero uno Hashem ha creato un mondo una casa per noi anche noi quindi cerchiamo di costruire e la cosa più grande che possiamo costruire forse una casa forse un castello una città è un villaggio ecco e quando raggiungiamo quel traguardo ebbene abbiamo la sensazione di aver raggiunto qualcosa di definitivo qualcosa che è fine a se stesso e potremmo morire a quel punto e andrebbe bene perché abbiamo raggiunto il proposito che Hashem aveva nelle nostre vite sin da prima che noi nascessimo e il motivo per cui è così è perché è così che Hashem ci ha creati e Hashem l'ultimo creatore ci ha resi un piccolo creatore e quando creiamo quindi a nostro modo sentiamo quel significato ultimo che è proprio il suo proposito in noi e cosa però succede una volta che abbiamo una casa una volta che abbiamo una casa che apre una possibilità in mane di altre possibilità potremmo avere un giardino e un giardino è un posto speciale una casa sappiamo è utilitaristica è da qualche parte che dobbiamo essere perché dobbiamo avere un riparo un rifugio ma un giardino un giardino è meraviglioso è estetico è bello e una volta che abbiamo una casa quindi possiamo costruire un giardino bene se costruiamo un giardino potremmo tornare nel giardino nel giardino di Hashem e nel nostro giardino anche dire ah anche questo ha un significato ultimo un proposito ultimo scusate nella nostra vita se la vita fosse solo per questo sarebbe significativo avrebbe un proposito potremmo morire in qualche modo sarebbe abbastanza ma poi anche quello apre un'altra porta quindi dalla casa al giardino è un'altra porta ancora diciamo a noi stessi bene io ho questa casa ho questo giardino potrei condividerlo quindi la relazione si può avere lì posso darla in dono a chi amo chi posso portare in questa casa in questo giardino con chi posso relazionarmi amare Hashem lo ha fatto per l'uomo per ognuno di noi quando eravamo ancora nel peccato nessuno di noi ha meritato la redenzione nessuno di noi ha meritato nulla siamo fatti e creati per il proposito di Hashem che è un piano di redenzione eterna amén è indissolubile e Dio ha fatto l'uomo quindi per questo proposito chi posso portare quindi in questa casa in questo giardino con cui posso relazionarmi amare Hashem ci ha fatti ha fatto questo giardino quando ci ha invitati nel giardino e ci ha chiesto di mangiare tutti questi meravigliosi frutti bene lo facciamo quando ci sposiamo e condividiamo la generosità della nostra vita con un coniuge con la nostra famiglia se lo facciamo abbiamo ottenuto quindi quella terza grande cosa nella vita che sembra dare alla vita un significato ultimo quel rapporto con quello che amo nel posto che ho costruito solo per loro e qui c'è una chiave importante per ognuno di noi perché sapete se Hashem ci fa comprare una proprietà se ci fa costruire una casa se ci fa acquistare un terreno se ci fa migliorare nella vita se ci fa imparare cose nuove nuove nozioni e ci fa prendere titoli infiniti nella vita non è per noi stessi per dilettarci e dire oh quanto sono sapiente perché la sapienza sappiamo che è fine a se stessa siamo come Shembali risonanti se non abbiamo quell'amore quella che è il fine ultimo di Hashem nelle nostre vite attraverso Yeshua Mashiach che ci redime e ci rende strumenti di redenzione nella nostra vita perché altri possano fruire di quel dono che abbiamo ricevuto in ognuno dei nostri cuori quando Hashem ha aperto i nostri occhi e ha rimosso quel velo che era sui nostri occhi quindi quel velo che era sul nostro cuore ha trasformato quel cuore di pietra in un cuore di carne perché potessimo vivere la sua redenzione in eterno amene far parte del suo regno e ognuno quindi da solo si sente abbastanza significativo da ingannare la morte conosco tante persone che sono schet come si dice scheptico diciamo che che non hanno scettici scusate che sono scettiche e pensano di poter ingannare la morte pensano di essere più forti di Hashem pensano di essere più forti di ogni cosa pensano che la forza sia in se stessi nell'uomo che l'uomo sia al centro di tutto bene sappiamo che la Torah ha scritto e dimostrato che ogni cosa costruita da mano d'uomo fallisce inevitabilmente viene distrutta ma ciò che viene da Hashem porta frutto e frutto in abbondanza il vero significato quindi sta nella progressione di queste tre fasi importanti una porno che porta appunto a due e che porta alla terza porta sono tre porte che apriamo nella nostra vita e attraverso cui raggiungiamo la relazione d'amore in Hashem troviamo quel significato ultimo di redenzione in lui attraverso il Mashiach di Israele Yeshua Hamashiach quindi è vero che le persone con cui viviamo costruiamo una casa un giardino e condividiamo insieme gli altri nostra moglie nostro marito la nostra famiglia i nostri ospiti ed è vero che lo facciamo con Hashem noi qui su questo pianeta terra cerchiamo di costruire quindi una casa per Hashem lo facciamo collettivamente attraverso questa cosa chiamata Mishkan appunto il tabernacolo il tempio lo costruiamo e facciamo una casa per lui quindi invitiamo Hashem ad abitarla a dimorare in quel tabernacolo così possiamo essere lì connessi con lui chiamiamo sappiamo che come ebrei nel Mashiach il tabernacolo stesso il tempio stesso siamo noi e siamo il tempio spirituale ed è importante che manteniamo santificati questi tempi e lontani da quelle che sono le nefandezze le sporcizie del mondo e anche che il nostro occhio il nostro orecchio il nostro olfatto la nostra bocca sia lontano da ciò che il mondo vuole propinarci ed è per questo che fratelli e sorelle vi invito a non guardare cose che non vengono da Hashem a iniziare a fare pulizia di tutto ciò che è da Satan perché Satan usa la televisione come usa il computer e social media per parlarci di altro che non è Hashem per sviarci in ogni modo e lo fa in un modo veramente come dire infimo e di bassa di basso livello Satan agisce sempre in maniera molto molto spicciola usa quelle che sono le nostre debolezze il nostro passato per accusarci ma Hashem è un Dio di grazia Hashem desidera la nostra redenzione e la nostra grazia è piena quando siamo deboli e lui è forte lì siamo forti in lui Amen e queste quindi tre cose sono davvero i grandi fini in sé e per sé attraverso cui noi esseri umani troviamo una ragione per essere vivi e il meccanismo per ingannare la morte che non è un inganno ma è la redenzione in Hashem attraverso il Mashiach di Israele Yeshua HaMashiach quindi costruiamo piantiamo e ci relazioniamo e se andiamo a vedere poi più in profondità ma questo lo faremo in un altro studio arriviamo a quelle che sono la fede la speranza e l'amore che sono proprio nella costruzione nella piantare appunto e nel vivere la relazione di chesed di amore profondo con Hashem Amen fede speranza e amore sono le cose ultime che rimarranno quando null'altro ci sarà nella nostra vita ma più di tutte è l'amore la relazione con Hashem ed è per questo che voglio pregare con voi perché ognuno di noi possa riconfermarsi riconsacrarsi in questo tempo di preparazione al mese di Elul in cui digiuniamo ma digiuniamo soprattutto e non solo nell'alimentazione digiuniamo anche in tutto ciò che come dicevamo noi non fa bene alla nostra vista ai nostri sensi in generale anche nelle relazioni che iniziamo a fare il perdono di ciò che è nel passato a perdonare le persone che ci hanno fatto del male non una ma 77 volte 7 Amen e lo so che è dura perché siamo umani ma è importante che lo facciamo e lo facciamo nel Ruach HaKodesh non lo spirito in verità perché Hashem ci sta chiamando ad essere adoratori in spirito e verità preghiamo insieme quindi questa benedizione del Mashiach in ebraico Baruch Atta Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher Natalanu Ed Erek A Yeshua Vemeshiach Yeshua Tutti insieme Benedetto sei tu Signore nostro Dio Re dell'universo che ci hai dato la via della redenzione in Yeshua il Messia Gesù Cristo Amen e se abbiamo pregato questa benedizione con tutto il nostro cuore con tutto il nostro essere la nostra mente bene potete contattarci e vogliamo pregare per voi che veramente questo sia un tempo di grande cambiamento eterno cambiamento nella vostra vita che possiate ricevere quella redenzione eterna e far parte del regno di Hashem attraverso il ricevimento di Yeshua il Messia di Israele Amen Shalom Shalom a tutti voi e le trovo a tutti voi e le trovo a tutti voi e le trovo a tutti voi